a servigliano rivive il torneo cavalleresco di castel crementino dal 12 al 21 agosto una comunità in festa con banchetti giullari fiere di arti e mestieri mercoledì 17 rievocazione dell'accessione della piana di san gualtiero venerdì 19 spettacolo al fieri e musici della compagnia gans sabato 20 corteo storico del 400 domenica 21 giostra dell'anello torneo cavalleresco di castel clementino dal 12 al 21 agosto a servigliano